Ciao Luca, anche la libreria apre alle 8? Sì, come va il lavoro nella tua edicola? Molto bene, grazie. Che ne dici di pranzare insieme? Certo, a dopo! Buongiorno, come posso aiutarla? Sto cercando una guida della Puglia per quando andrò in vacanza. Certo, su questo scaffale trova tutte le guide, regione per regione, in ordine alfabetico. Ecco quella della Puglia. Grazie, mi sembra una buona guida. Sì, certo. Questa casa editrice è specializzata in guide turistiche. Nella guida trova diversi itinerari da seguire, tutti i siti turistici più importanti e anche consigli sui piatti tipici, i migliori ristoranti e negozi. Quanto costa? 20 euro Va bene, grazie. Buongiorno Buongiorno, sto cercando un regalo per mia moglie. Vorrei regalarle un libro. Che genere preferisce? Abbiamo gialli, romanzi di avventura, fantascienza. Lei è appassionata di romanzi rosa. Bene, questo libro è di un autore americano che ha avuto molto successo con il suo ultimo romanzo. È una storia d'amore ambientata a New York. Interessante. È tra i romanzi più venduti in America in questo momento ed è stato tradotto in molte lingue, tra cui l'italiano. Va bene, lo prendo, grazie. Prendo anche questo segnalibro. Può farmi un pacco regalo? Certo. Buongiorno. Salve, come posso aiutarla? Sto cercando un libro per mio figlio. Quanti anni ha? Ha cinque anni. Abbiamo questi libri di favole, che potrebbe leggere a suo figlio, oppure libri da colorare. Prendo un libro di favole. Grazie. Buongiorno. Vorrei un giornale. Quale vuole? Prendo il Corriere della Sera, grazie. Vuole anche l'inserto? Oggi c'è un settimanale economico. Va bene, grazie. Quant'è? E con lei. Buona giornata. Buongiorno. Vorrei una rivista. Che tipo di rivista vuole? Abbiamo riviste scandalistiche, di economia e finanza, auto e motori e tecnologia. Vorrei qualcosa di poco impegnativo, da sfogliare al mare. Una rivista di gossip andrà bene. Ecco a lei. Prendo anche la settimana enigmistica. Adoro fare i cruciverba. Vende anche delle cartoline. Sì, le trova su questo espositore. Vediamo. Prendo anche questa cartolina. Quanto è tutto? Sono 4 euro. Ecco a lei. Arrivederci. Ciao. Sto cercando un nuovo fumetto da leggere. Ne abbiamo tanti. Supereroi, avventura, fantasy, manga, umoristico, horror. Vediamo. Posso sfogliarli? Sì, non c'è problema. Prendo questo. Mi sembra interessante. Ottima scelta. Costa 2 euro. Vorrei anche un album calciatori e delle figurine per mio fratello minore. Certo, ecco l'album. Un pacchetto di figurine viene 80 centesimi. Va bene. Luca, come sta andando la giornata? Bene, ho avuto diversi clienti. Andiamo in pausa pranzo insieme. Così mi consigli qualche nuovo libro da leggere. Certo, andiamo. Ti offro il pranzo. Se ti è piaciuta questa lezione, lascia un bel like ed iscriviti al canale. Noi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao. Ciao. Vog๊amiento soli. Nonessiisselo. Nonessi. E pallone la cosa che vediamo alla prossima. Vi engineers che vi aggara passati nelle cortile auto di Problemou. Nonessiare insieme le campi suurale. Nonessi